Sono molteplici le richieste di intervento da parte dei cittadini del quartiere Gimarra di Fano. All'incrocio tra via Rizzoli e via Padalino, i residenti segnalano il dissesto del manto della strada, dove evidenti buchi con nuove colate di cemento formano dosse e crepe pericolose per il passaggio delle auto, mentre pochi metri prima, sul senso unico di via Rizzoli, il comune ha consentito la sosta delle auto proprio a ridosso della curva, dove spesso lo scuola busso o altri mezzi pesanti non riescono a passare. Quando sono stati fatti anche dei lavori, penso di allacciature, con il tempo la situazione è peggiorata perché come potete vedere lo stato della strada è proprio tutto dissestato, è una situazione già segnalata più di una volta nel tempo ma è ancora rimasto tutto quanto così e mi piacerebbe sapere con quale logica, quando vengono fatti gli interventi, vengono poi, come dire, si sistemano quelle parti restanti che poi rimangono così e durante tutto questo tempo, rispetto a quando sono stati fatti questi interventi, poi la situazione è peggiorata. In curva tra via Rizzoli e via Poggi invece c'è un'altra problematica che è relativo al parcheggio delle auto. Io lì avevo chiesto all'ufficio mobilità, al comune, di mettere anche questo pezzo che c'è nei pressi della curva in divieto di sosta perché ad esempio quando viene lo scuolabus che passa qui per andare a prendere i bambini fa fatica a fare manovra. Lì aveva più senso secondo me anche rendere quel tratto di strada in divieto di sosta perché mettendoci le macchine nella curva quando ci passa un mezzo pesante fa fatica a fare manovra. Problematiche senza fine. In via Poggi la scalinata che scende verso la statale per l'accesso al mare dei residenti e dei villeggianti è in stato di totale degrado e a serio rischio di imminente crollo. C'è lo scorrimano che è distrutto, c'è il guardrail che è arrugginito. Questo è importante perché venga fatto un intervento il prima possibile in quanto che per i turisti che vengono in vacanza d'estate in questa zona è un punto di incontro per chi va appunto lungo la spiaggia, lungo il mare e questa scalinata proprio è un collegamento importante andrebbero fatti degli interventi al più presto perché è a serio rischio crollo. A parte che è sporca, le erbacce, le bottiglie rotte, come vedete queste erbacce che crescono spontanee lungo la scalinata e sono interventi che andrebbero appunto fatti al più presto. Non ultimo, lo stesso parcheggio sterrato di via Poggi anche questo estremamente dissestato dove i residenti potrebbero parcheggiare la propria auto se solo venisse asfaltato. Io ho chiesto ripetutamente che quel parcheggio venisse trasformato in un bel parcheggio con tanto di strisce bianche in quanto qui capita che lungo la via molte persone che abitano qui non avendo comunque il garage, non avendo il posto auto avendo la possibilità di parcheggiare l'auto qui in questo parcheggio sterrato si invogliano anche a parcheggiare qui. Invece come potete ben vedere il parcheggio è tutto pieno di buco, è tutto sterrato però quello che mi viene a dire è una cosa soltanto noi paghiamo un'amministrazione comunale che anziché intervenire in modo competente e serio su queste problematiche la risposta che mi è stata data quando gli ho chiesto di poter intervenire mi hanno detto che devono sapere di chi è il parcheggio se è un parcheggio pubblico privato non mi sembra una cosa normale che un cittadino paghi le tasse per ricevere questi servizi da parte di chi di dovere da parte di persone che nell'arco di questi mesi si sono anche aumentate lo stipendio e non si sono comportate secondo me in modo serio in modo competente, in modo professionale in più è mancata anche la volontà di fare degli interventi perché sono cose talmente plateali in cui bastava secondo me veramente poco Per quanto riguarda l'area di via Poggi è un'area che noi abbiamo acquisito all'interno della lottizzazione del Carmine abbiamo acquisito significa che comunque quell'area che oggi viene utilizzata come parcheggio domani diventerà tutti gli effetti parcheggio perché la società lottizzante lo deve realizzare all'interno della convenzione che scade per il 2025 quindi in una di quelle che è l'ultime sezioni quindi nell'otto 3 che è l'ultimo di cui ancora non c'è stata data una scadenza ma comunque è di prossima realizzazione invece sulla gestione dell'area verde è sempre la società stessa che la deve deve essere ottemperante tanto che noi li abbiamo già sollecitati a quello che è la manutenzione ma lo rifaremo sicuramente perché naturalmente questo significa poi anche un'igiene del luogo ma un'igiene anche che riguarda altre famiglie che vivono nella prossimità grazie a tutti grazie a tutti